Le punizioni capitali nell'antica Roma rappresentavano una serie di atrocità. I condannati potevano essere decapitati, gettati da alte scogliere o strangolati. Altri subivano annegamento, combustione su roghi, crocifissione, fustigazione, lapidazione, lacerazione da belve o muratura viva. Ogni crimine comportava una pena specifica, spesso immaginativa e macabra. Molti dei supplizi non erano formalmente codificati, ma erano permeati da una sinistra creatività. Oltre a infliggere dolore, le esecuzioni romane includevano rituali misteriosi, intrecciati con credenze magiche o religiose. Queste punizioni servivano a punire chi aveva disobbedito all'autorità politica o familiare, espiare offese agli dèi e soddisfare vendette personali. All'origine di queste antiche pratiche punitive si trovava l'intersezione fra sacralità e vita quotidiana nel mondo romano. Nell'antica Roma, fra le istituzioni più antiche figuravano le Vestali, giovani sacerdotesse vergini incaricate di mantenere acceso il fuoco sacro alla Dea Vesta, simbolo della vita eterna della città. Per loro, la violazione del voto di castità o lo spegnimento del fuoco sacro significava un terribile supplizio. Venivano murate vive. Dopo una cerimonia funebre, la colpevole veniva portata nel campo scellerato, presso portacollina lungo le mura serviane, dove veniva condotta in una camera sotterranea con un letto, pochi viveri e una fiaccola. Qui veniva murata viva, lasciata morire di fame. Simbolicamente, la tomba rappresentava la casa e la dimensione domestica, mentre i compiti quotidiani delle Vestali riflettevano i doveri delle donne comuni. Quest'ultime, se colpevoli di adulterio o ubriachezza, affrontavano una morte simile, ma la loro condanna era eseguita dal pater familias anziché dal pontefice massimo. La punizione di adulterio e il divieto di consumo divino erano radicati nella cultura dell'epoca, dove il controllo sul comportamento femminile era strettamente legato alla necessità di mantenere l'ordine nella riproduzione dei cittadini romani. Rispetto alla sorte delle Vestali, una pena considerata privilegiata era lo strangolamento, scelto da molti aspiranti suicidi che preferivano evitare il disonore di un supplizio pubblico. Quando un romano decideva di porre fine alla propria vita, spesso optava per il lacheum, un laccio stretto intorno al collo che causava la morte per soffocamento in pochi istanti, senza dolore. Per i romani, il suicidio non era considerato un atto di codardia, ma un gesto di libertà. Il suicidio più onorevole era quello compiuto con la spada, arma virile per eccellenza. Passando alle pene capitali, una delle più comuni era la fustigazione, inflitta sia agli amanti delle Vestali che, in ambito domestico, agli schiavi insubordinati o ai figli che avessero tradito i principi della Civitas. Venivano uccisi a colpi di verghe. Per i traditori, come i colpevoli di crimini contro lo Stato, noto come per dueglio, l'esecuzione più frequente era la Securi per Cussio, la decapitazione con l'ascia, simbolo del potere dei re di Roma. Il rito di morte era preceduto da una passeggiata ignominiosa, durante la quale il condannato, con le mani legate, veniva fustigato, pungolato, insultato e lapidato dal pubblico. Al suono di una tromba, l'ascia cadeva sul collo del condannato, ponendo fine alla sua sofferenza. Per i colpevoli di perdueglio, una delle pene riservate era l'arbor infelix, o albero infelice. Secondo Tito Livio, il supplizio prevedeva che il condannato, con il capo coperto, fosse sospeso con una corda all'albero e quindi frustato. Alcuni hanno interpretato questo rituale come un'impiccagione, ma questa ipotesi è da escludere. Per i romani, l'impiccagione e la pena capitale erano inconciliabili, perché si credeva che le anime degli impiccati, avendo esalato l'ultimo respiro sospese nell'aria, non potessero tornare sulla terra nel regno dei defunti e vagassero fra i vivi, terrorizzandoli. L'arbor infelix era piuttosto simile alla più conosciuta crocifissione. Il condannato veniva legato a un tronco con una corda e abbandonato al proprio destino. Questa forma di punizione, come molte altre nel mondo antico, aveva anche connotazioni sacrificali, visto che al condannato veniva coperta la testa, simile alla consacrazione di una vittima all'idei. La vera crocifissione, riservata soprattutto a schiavi e stranieri, utilizzava uno strumento specifico composto da un'asse verticale chiamata stipes e da una traversa nota come patibulum, unita alla prima, dopo che il condannato l'aveva portata sulle proprie spalle. Questo metodo è stato narrato nei Vangeli come accaduto a Gesù. Non è corretto affermare che i chiodi furono utilizzati per Cristo in un eccesso di disprezzo e crudeltà. I resti di un individuo crocifisso ritrovati a Gerusalemme hanno confermato che questo era il metodo standard, non un'eccezione. Il condannato, appeso alla croce, veniva tormentato con ferri roventi e colpito alle gambe fino a frantumargli le ossa. La morte sopraggiungeva per arresto cardiaco, blocco respiratorio o emorragia. Un'altra forma di esecuzione simile all'arbor in felix era la furca, a forma di ypsilon, dove il collo del condannato veniva appoggiato e moriva per soffocamento. Molte esecuzioni capitali nell'antica Roma erano eventi pubblici altamente scenografici. Un esempio è la Damnazio ad Bestias, o condanna alle belve, introdotta nel II secolo a.C. e riservata principalmente agli schiavi. Gli anfiteatri furono costruiti appositamente per questo spettacolo mortale, dove i protagonisti erano leoni e tigri. Un impatto altrettanto atroce avevano le condanne al rogo, particolarmente usate per crimini religiosi e durante le persecuzioni dei cristiani. Nel supplizio del rogo, il condannato veniva legato a un palo rivestito di legna e acceso. Era una delle punizioni capitali più terribili, resa ancora più spettacolare dall'uso della tunica molesta, una veste imbevuta di pece e zolfo che alimentava le fiamme. Oltre ai cristiani, i cui roghi erano frequenti, questa pena colpiva anche chi appiccava incendi nei campi coltivati, trasformando il condannato in un sacrificio umano dedicato alla dea della fertilità, Cerere. Nel 390 d.C., l'imperatore Teodosio I, noto per aver reso il cristianesimo la religione di Stato, ordinò che tutti coloro che commettevano l'infamia di condannare il corpo virile a pratiche riservate all'altro sesso fossero arsi vivi. In altre parole, tutti gli omosessuali passivi. Preferibile al rogo era il destino riservato ai disertori e ai doppio giochisti, la precipitazione dalla rupe Tarpea, uno sperone roccioso sul Campidoglio legato alla leggenda della giovane Tarpea, morta dopo aver tradito i Sabini. Altrettanto spettacolare era la lapidazione, dove pietre venivano scagliate contro il colpevole, una pratica diffusa soprattutto in ambito privato, dove i parenti delle vittime di omicidio, secondo la legge del taglione, potevano uccidere l'assassino. Fra i crimini più gravi per i romani, il parricidio era punibile con uno dei supplizi più elaborati e crudeli, la poena Cullei. Al parricida venivano fatti indossare zoccoli di legno e un cappuccio di pelle di lupo. Dopo essere stato percosso, veniva cucito dentro a un sacco insieme a un cane, un gallo, una vipera e una scimmia, per poi essere gettato in mare o in un fiume vicino. La morte sopraggiungeva per mancanza di aria o per le ferite inflitte dagli animali, simbolicamente scelti per il loro significato. Il cane, associato ai lupi, il gallo simbolo di violenza, la scimmia come rappresentazione dell'uomo mostruoso e la vipera, nota per il suo comportamento matricida. La pelle di lupo evocava la ferocia del parricida, mentre gli zoccoli di legno si credeva isolassero gli influssi malefici. Anche un imperatore, Aulo Vitellio, subì una fine simile, trascinato nel foro con una corda al collo, mentre la folla lo copriva di sterco e fango. Deposto con la forza da Vespasiano, fu scarnificato, ucciso e trascinato nel tevere con un uncino, come racconta Svetonio. Queste scene possono sembrare tratte da un film horror, ma sarebbe ingiusto e anacronistico considerare i romani particolarmente inclini alla crudeltà. La persistenza di alcuni supplizi dell'antica Roma in alcuni paesi oggi, dove ancora esiste la pena di morte, dimostra che la ricerca di giustizia, castigo o vendetta è stata una costante umana nel corso dei secoli.